Rassicuriamo la città sui lavori della PAMTRAC che come vedete nell'ultimo tempo si sono rallentati sì ma siamo stati vigili ogni giorno. Rallentati perché nel momento in cui siamo andati a fare dei lavori ci sono stati dei ritrovamenti di macerie di una caserma che risale agli anni 40 e quindi tutte le fondazioni erano rimaste sotto terra che abbiamo dovuto rimuovere. Nella rimozione nella pulizia dei terreni che poi venivano rimesse a disposizione appunto per creare queste cunette c'è stato un importo diciamo che non era previsto nei lavori quindi abbiamo dovuto ristanziare delle nuove economie che proprio domani approveremo in consiglio comunale che servono per terminare l'impianto come originariamente era stato pensato quindi con questa pista di asfalto con questa parte con questa parte invece lavorata in terra. Un impianto che appunto verrà perimetrato nella sua estensione e per il quale c'è già una predisposizione di illuminazione che inizialmente avrà dei punti luce solo per garantire quello che la luminosità notturna per poi invece avere dei connotati in un secondo tempo con il secondo stralcio dei lavori che non è inserito in questo proprio per andare a far sì che quell'impianto diventi come è stato pensato un impianto che sarà un fiore all'occhiello di carattere nazionale dove svolgere veramente delle competizioni molto importanti. Non a caso è stato inserito e collocato in un'area di parco di verde laddove è attraversato da tante persone che appunto domani e ma già da oggi l'attraversano sulle due ruote e proprio le due ruote che questo impianto tende ad ospitare due ruote su ogni forma in un sali e scendi ma anche in una forma originale e nello stesso tempo dinamica di salti quello che le nuove generazioni oggi chiamano Wops. I lavori sono pronti a ripartire dopo Pasqua.